il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 il caldo però ha messo lì quel discreto margine sin dall'inizio che quindi va a testimoniare che era solo un episodio quello che in mattinata vedeva Farni davanti a lui poi lui ha aspettato atteso e quando quasi come una premonizione io ho detto potrebbe aspettare l'errore di Farni Farni ha fatto l'errore quindi è stata una di quelle occasioni stranissime in cui uno pensa una cosa che possa succedere l'errore di Farni non ho avuto occasione di vedere Farni ma tanto viaggiano uno spazio due spazio tre spazio tre spazio uno questa è la situazione in pista con il GPS GPS targato storero lo faccio io adesso Farni ci crede o almeno penso di crederci sta andando l'attacco di Fasa davanti Kalt se ne trafrega come si dice il gergo e Daniel Kalt questo è quello che è questo finito è una parte e continuano a meno ole danze e si rifà in 56 e tre a due secondi fine di vantaggio su carta Ciao Questa manche sta per finire Parti Ci prova Va l'incrocio delle linee E l'inca stacca passerbile Questa viene davanti La vettura tranquilla Non hai sentito di stare E tranquillo Ma tantissimo Tranquillo è un'altra cosa Però adesso Parti inizia a buzzare Ma che siamo qua Andiamo a dare una staccata Non lo so Sì Vorige E' l'attacco Intratti Non lo so Ma che due Ma che due Oh va Non lo so E' l'attacco E' l'attacco E' l'attacco Il tedesco Un'altra volta Un suor capitolo più alto con basta di seconda